Alle mie spalle c'è una stanza del sale, nelle strutture delle terme ce ne sono diverse e per chi hanno delle proprietà curative. 30 minuti qui dentro secondo alcuni studi è dimostrato che ha lo stesso valore di due o tre giorni di mare. Assieme alla cromoterapia, alla aromaterapia, alla musicoterapia si ricerca questo benessere fisico e mentale. Aiuta molto anche per combattere e alleviare malattie dell'apparato respiratorio, quali riniti, sinusiti, asma. Ma qui c'è, allora la stanza del sale, sale a terra, tanto sale a terra, è un sale speciale. Sì, è una sale dell'Himalaya, poi c'è una nebulizzazione di acqua e sale. E poi anche le pareti sono di sale. Di sale con la cromoterapia, sì. Grazie e buongiorno mattina. Grazie a voi.